Facciamo un Vazio Romagnolo, una canzone che quest'anno festeggia i 20 anni e auguri e quindi le giochiamo volentieri qui a Rossi. Si però lo sai. Ah io lo so Pappio, lo so. A proposito, Pappio è il tastiere, Babio è il batterino, Marlo con la roba lì e il operatore Mulinari alla Basetta e all'Incipi. Cos'è questa tale dell'Incipi? Mulinari non solo alla Basetta ma all'Incipi. Spiega questa cosa. Spiega, io non so neanche cosa vuol dire, ma vuol dire lancio, ma io non so, a me piacciono le parole incipi. Usiamo le nostre parole, nel mio regno, come ho detto l'incipi sera anche alla manifestazione dei Grilli. Sorpresissima, è andata così, se vuoi puoi toglierti anche l'altra basetta. Allora adesso, giusto beneficio di Baldi, il ritmo è un buffer lento, cioè un rum-tza-tza-tza. Adesso lui la chiama con l'Incipi, proviamo a vedere come va, si chiama il Dirdeclomb. Facciamo una prova? Facciamo una prova? Facciamo una prova, veloce, devo spiegare cos'è. Allora, se funziona andiamo! Dirdeclomb, si tratta di questo, il Colombo, gira, 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 poi torna sempre qui, nel senso nello stesso posto. Perché è qui che bisogna combattere, è qui che bisogna darsi da fare, inutile pensare di andare dall'altra parte, ecco. Anche in bicicletta, per chiarità, bisogna combattere anche in bicicletta. Benissimo, proviamo con l'Incipi. Ecco, ecco, vedete, benissimo. Potremmo durare per ore. Prego. Nato Perilli, isčiugga in bambino! Naja, sorelde... Naja, ozze, i fio, arbón, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che fa scelta pure, qualche fond un sirene della nott' dinamina, siname di un beire di schia di me, perché da dubbio o a strada è un dubbio il mosto dei primi, ma da sirene di marcia Grazie a tutti. Grazie a tutti.